Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Non ce l'ha fatta Alex Talevi il disabile è rimasto coinvolto in un tragico incidente accaduto lo scorso 7 agosto in A14 La protezione civile di Fanno piange la scomparsa di Daniele Razzano socio e consigliere dell'associazione di volontariato La fusione di Monbaroccio con Pesaro si farà il processo ormai è avviato ne parleremo tra poco con l'assessore pesarese Antonello delle Noci Strada chiusa da oltre 10 anni a Cucurano l'appello di un pensionato 91enne che chiede provvedimenti al comune di Fanno Il Vescovo Trasarti ha lo chalet per parlare di ecstasy venerdì l'incontro organizzato dalla diocesi In 3.000 la festa del socio della BCC di Fanno ha segnati bonus bebè e medaglie d'oro Buonasera lo avete sentito dai titoli non ce l'ha fatta Alex Talevi il 41enne diversamente abile rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale accaduto lo scorso 7 agosto all'altezza dell'uscita del casello Ancona Sud sull'autostrada 14 Alex si stava recando con i suoi genitori a Santuario di Loreto per un pellegrinaggio organizzato dall'Unitalsi nello schianto aveva perso la vita al padre Corrado deceduto sul colpo pensionato 71enne originario di Fanno ma che risiedeva da circa 15 anni a Cartoceto insieme alla famiglia il cuore di Alex invece ha smesso di battere ieri sera all'ospedale Santa Croce di Fano dove era ricoverato insieme alla madre Angela ma per far chiarezza sulle cause della morte è stata disposta l'autopsia le immagini che state vedendo invece si riferiscono ad un'intervista realizzata dalla nostra redazione lo scorso lunedì 30 marzo per un servizio sulle barriere architettoniche al cimitero centrale di Fano Grazie mille Ciao Alex Ciao E ancora un'altra tragedia il CB Club Mattei e tutta la protezione civile di Fano piangono la prematura scomparsa a soli 56 anni di Daniele Razzano socio e consigliere dell'associazione di volontariato una malattia l'ha portato via in soli 15 giorni volontario che tutti avrebbero voluto nella propria associazione dicono cuoco e logista aveva prestato soccorso durante il terremoto ad Haiti e nelle Filippine a tal proposito era stato anche nei divani rossi del nostro programma dopo cena per raccontare questa esperienza insieme al presidente del CB Club Mattei Saverio Livi e ad altri volontari il funerale di Razzano verrà celebrato domani mercoledì 16 settembre alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe a Marotta familiari amici e colleghi partiranno alle 14.30 dalla camera mortuaria di Fano l'associazione ha detto Olivi non sarà più la stessa cambiamo argomento perché è stato avviato il percorso per la fusione fra i comuni di Pesore e Monbaroccio ad annunciarlo l'assessore al bilancio del capoluogo Antonello delle Noci che abbiamo in collegamento telefonico buonasera assessore buonasera buonasera a tutti dunque una fusione che si farà anzi è ufficialmente iniziato questo percorso sì questa mattina è iniziato l'iter per il percorso della fusione tra il comune di Pesaro e il comune di Monbaroccio un iter segnato da dipassi importanti oggi la giunta comunale di Pesaro ha deliberato domani la legge passerà poi nelle commissioni e lunedì nel consiglio comunale per poi l'iter continuare in regione e ancora poi il referendum un referendum consultivo che dovrà essere indetto dall'assemblea legislativa delle Marche ma quali vantaggi potrebbe apportare questa fusione i vantaggi sono moltissimi intanto stiamo parlando di un territorio che vede distanze davvero ravvicinate quindi anche il carattere culturale il carattere turistico del territorio ma soprattutto quelle che sono le risorse economiche il comune di Pesaro ha un avanzo di 40 milioni di euro e attraverso una fusione potrebbero essere completamente liberate 30 dedicati ad investimenti e in confronto con il comune di Monbaroccio porterebbe anche allo stesso comune le stesse cittadini 5 milioni di euro di investimenti per non parlare poi dei trasferimenti le fusioni oggi grazie anche alla Del Rio trasferiscono fino al 20% dei trasferimenti nazionali quindi parliamo di un milione e mezzo di euro per i prossimi 10 anni e questi credo che siano molto importanti perché queste risorse questi 30 milioni più un milione di mezzo all'anno potrebbero essere utilizzati per servizi sociali servizi educativi ma soprattutto per investimenti nelle nostre città ecco ma invece i dipendenti dei due comuni che fine faranno continueranno a svolgere le loro funzioni assolutamente si vengono mantenuti i ruoli le posizioni ma per i dipendenti del comune di Peso nulla cambierete per quelli invece del comune di Monbaroccio ci sarebbe anche un ulteriore vantaggio poiché il fondo un po' la storia lo racconta la storia anche sindacale di confronto da questo punto di vista per i dipendenti ha un fondo di produttività molto importante su cui ovviamente anche domani i dipendenti di Monbaroccio che diventerebbero di un unico comune che è quello di Pesero troverebbero poi una risposta ancora più positiva ecco che allora questi sono solo alcuni dei vantaggi che hanno spinto i due comuni ad iniziare un'iter diffusione che vedrà e speriamo entro la fine dell'anno la nascita di un comune unico con una popolazione diversa delle aree diverse ma con gli stessi cittadini che collaborano nell'ottica dell'interesse pubblico grazie all'assessore del comune di Pesero Antonello Delenoci su questa fusione però non tutti sono d'accordo tra questi in base a quanto trappelato nei giorni scorsi il vicepresidente della proloco di Monbaroccio Varis Iacucci e il fratello Navario vicepresidente dell'Aves che vediamo proprio in collegamento qui siamo in piazza nella piazza di Monbaroccio ecco Varis come mai non siete favorevoli a questa fusione? ma non è che non siamo favorevoli il discorso innanzitutto la giunta il sindaco doveva avvertirci almeno dirci qualcosa qui tutto al buio abbiamo appreso noi eravamo in montagna come avete detto voi abbiamo appreso dai giornali che era diciamo in fusione Monbaroccio e Pesero per noi è stata come un fulmine diciamo una schiopettata proprio lo dico in gergo venatorio è stata una cosa diciamo deludente ma non lo dico su lui lo dice il 99% dei monbaroccesi io dico se ne parlava poi se proprio la legge perché ancora mi risulta che non c'è una legge regionale quindi se poi la legge dice diffonderci ma io dico ai 40 anni che sto facendo il volontario per creare Monbaroccio migliore ma invece andremo sicuramente in peggiore non in migliore abbiamo creato a Monbaroccio dei sistemi dei musei musei innanzitutto quindi per me non lo so come andremo a finire io sono un po' perplesso poi se sta fusione si deve fare ma io veramente guardi andrei via da Monbaroccio perché mi sono disgustato al massimo guardi bene abbiamo appena sentito Varis proviamo invece adesso a passare il microfono a Navario Navario come diceva tuo fratello insomma da 40 anni siete nel mondo del volontariato per cui immagino abbiate sentito già anche pareri contrari o favorevoli anche dei residenti di Monbaroccio che cosa vi dice la gente certamente certamente qui purtroppo nessuno nessuno è contento come dicevo anche ultimamente al sindaco in una riunione pubblica la gente è scontenta però nessuno parla nessuno parla sono sempre i fratelli Iacucci per cui ci dicono anche sono sempre loro però è la verità perché la gente non è contenta dove andremo a finire è vero parlano di soldi però questi soldi come siamo arrivati adesso a non avere una lira cioè nessuno mai ci ha detto niente anche l'ultimo consiglio nessuno ha parlato ha chiuso il bilancio non ha parlato di debiti così presi per la gola oggi come oggi si trovano a fare questa cosa ma domani dove andremo a finire saremo una periferia di Pesaro la nostra autonomia Monbaroccio non piango perché sono grande ma mi viene da piangere guardi sono nato a Monbaroccio cittadino di Monbaroccio 35 anni ho passato nell'Avis come segretario come presidente dove andranno a finire le nostre associazioni l'Avis non avrà più modo di esistere perché c'è Pesaro siamo con Pesaro penserà Pesaro ma non è questo il nostro sistema comunale la nostra municipalità dove andremo andrà adesso per 4-5 anni saranno i grandi faranno furore poi saremo un piccolo paese una periferia di Pesaro non saremo più un paese saremo la periferia di Pesaro dimenticata da tutti oggi come oggi lo dicevo anche ultimamente al sindaco non riuscite voi a pulire questo centro storico domani Pesaro manderà l'operaio a pulire i nostri vicoli no cerchiamo di farlo noi cerchiamo di tenere questo paese al meglio perché la gente che viene dicono che il paese è bello ma andrà a morire grazie comunque grazie grazie ai fratelli Iacucci per questo intervento poi nei prossimi giorni vedremo appunto l'evolversi di questa fusione e adesso invece vi facciamo vedere un video che sta girando sui social network sulle prime reazioni dei fratelli Iacucci dopo aver saputo nei giorni scorsi di questa possibile fusione guardate appesa appesa fai la foto fai la foto ma adesso non mi ha dato il giornetto mettemla lì mettale mettla ecco avete visto questo cartello simpatico con su scritto bentornati appesa a roccio andiamo avanti con una notizia di cronaca perché la polizia di Urbino ha individuato e denunciato all'autorità giudiziaria l'autore dei furti sulle auto avvenuti durante l'estate nella strada delle cesane ai danni di persone che parcheggiavano le proprie vetture per andare a camminare o a correre si tratta di un italiano di 23 anni pregiudicato che attualmente si trova alloggiato in un campo nomadi a Iesi durante la perquisizione nella sua dimora gli agenti hanno sequestrato numerosi oggetti tra i quali dieci borse di marche prestigiose nove portafogli usati un paio di occhiali appartenenti ad una giovane urbinate derubata ad agosto nonché materiale informatico asportato nel maceratese cambiamo di nuovo argomento perché un pensionato residente a Cucurano lancia un appello all'amministrazione comunale per far riaprire la strada che collega via della stazione a via delle scuole chiusa da oltre dieci anni servizio di Lino Balestra si può annoverare tra le incompiute a Cucurano in via della stazione questa opera di urbanizzazione in convenzione con le ditte appaltatrici per il completamento di una strada di collegamento e i parcheggi che doveva partire nell'ottobre del 2013 e che ad oggi per inadempienze delle due imprese che non hanno mai iniziato i lavori non vede ancora il suo completamento gli abitanti della zona si battono per questo fazzoletto di terra da quasi dieci anni e noi pure della redazione di Occhio alla Notizia ce ne siamo occupati anni or sono ed oggi siamo stati nuovamente contattati se erano al centro di Fano questo non sarebbe esistito al centro di Fano è una cosa vergognosa capito e gli amministratori devono risolvere questa cosa unica soddisfazione per gli abitanti della zona quella lingua di sentiero sterrato creato per pedoni e biciclette con l'interessamento della loro amministrazione a Guzzi ma poi nulla più la stradina in breccino qui a fianco l'avete fatta fare voi sì la stradina io mi sono interessato io e il comune la giunta che c'era prima con l'assessore è stato bravo devo dire la verità e siccome li conosco tutti un po' è stato bravo e la stradina è stata fatta prego prego il sindaco Serri il vice sindaco Marchigiani poi qui c'era anche Minardi ho portato a loro le foto la lettera tutto quanto per sistemare qui speriamo che trovano la soluzione idonea per tutti l'attuale amministrazione comunale il 9 giugno scorso ha diffidato le due imprese a realizzare entro 90 giorni i lavori di urbanizzazione in convenzione tra cui anche la strada trascorsi i quali provvederà ad incassare la polizza a garanzia e provvedere d'ufficio alle opere buone notizie quindi per gli abitanti della zona e torniamo a parlare di scuola perché la regione Marche mette a disposizione oltre 2 milioni di euro per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo questi fondi spiega l'assessore all'istruzione Loretta Bravi verranno destinati alle famiglie in condizioni economiche disagiate l'ISEE indicatore della situazione economica equivalente non dovrà essere superiori a 10.632,94 euro e riguarda i nuclei familiari con studenti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado le domande dovranno essere presentate ai comuni di residenza entro la data stabilita dagli avvisi comunali e che permette ai comuni stessi di inviare in regione l'elenco degli aventi diritto entro il 16 ottobre prossimo e adesso parliamo di ecstasy perché dopo i fatti di cronaca che questa estate hanno coinvolto purtroppo anche adolescenti la diocesi di Fanno Fossombrone Cagli Pergola ha organizzato un incontro per riflettere sul grave problema della droga Sì innanzitutto avremo il vescovo Armando che ovviamente è sempre molto sensibile alle problematiche del nostro territorio e poi abbiamo tanti relatori devo dire perché parlare di queste tematiche è bene parlarne con tante persone che vivono magari questa esperienza perché sono psicologi unità di strada e quindi avremo il capitano Alfonso Falcucci che è il comandante della compagnia dei carabinieri di Fano avremo la dottoressa Alessia Guidi che è una psicologa psicoterapeuta della cooperativa Irsa Aurora nuove dipendenze di Fenile avremo il dottor Cesare Grianti che è il dirigente medico del laboratorio di tossicologia area vasta 1 e avremo anche dei DJ perché comunque sono anche loro i primi interlocutori di quello che è un po' il popolo della notte abbiamo un DJ di fama nazionale anche un produttore musicale che è Frankie P avremo Luca Valentini che è un DJ e ci porterà la sua esperienza di essere DJ insomma negli anni 80 80-90 e avremo Marco Battini e questo ci abbiamo tenuto molto perché Marco Battini è il coordinatore del coordinamento unità di strada della regione Emilia Romagna e anche dopo i fatti di Riccione è stato intervistato anche dal Corriere della Sera e proprio per capire qual è il mondo dei giovani di questo popolo della notte e avremo poi anche Francesco Loiacono che è un addetto alla sicurezza Ecco, una cosa di rilevante insomma importanza è il fatto che la diocesi esce un po' dalle sue stanze dai suoi ambiti per andare in un luogo frequentato dai giovani cioè dove i giovani vivono la loro realtà e il loro divertimento Esatto avevamo già iniziato con Imperfetti Sconosciuti il corto che abbiamo presentato al Politeama e anche con questa iniziativa stiamo un po' accogliendo quello che ci dice continuamente il Papa quello di essere una chiesa in uscita e abbiamo pensato che lo chalet fosse il luogo adatto anche perché è uno dei riferimenti della Movida Fanese quindi se vogliamo arrivare veramente a tutti i giovani dobbiamo andare dove i giovani sono e nei luoghi che i giovani che i giovani frequentano La CNA di Marotta auspica invece un incontro tra il Comune di Fanno e quello di Mondolfo per affrontare alcune questioni relative al piano regolatore generale tre punti più urgenti secondo la CNA è quello della mancanza di opere compensative della terza corsia della 14 una situazione dicono che ha già causato e rischia di causare di nuovo gravi dissesti idrogeologici e che mette a rischio l'intera zona in caso di forti precipitazioni oltre 3.000 persone hanno partecipato alla festa del socio della banca di credito cooperativo di Fano durante la serata sono stati consegnati i bonus bevè e le medaglie d'oro sabato scorso si è ripetuto il tradizionale appuntamento con la festa del socio della banca di credito cooperativo di Fano oltre 3.000 le persone che hanno trascorso una serata all'insegna della convivialità la festa è stata come sempre l'occasione per i vertici dell'istituto di credito di incontrare e premiare alcuni dei 6.500 soci a cominciare da quelli che da più anni sono fedeli alla cooperativa di credito premiate quindi con una medaglia d'oro alla presenza dell'assessore al bilancio Carla Cecchetelli 16 persone diventate socie nel 1972 è un incontro che direi fa parte del nostro essere banca mutualistica banca del territorio d'altra parte non mi risulta che ci siano iniziative simili che coinvolgono tante persone in contemporanea perché questo è l'aspetto che nel giro di un'ora si riesce a fare questa cosa il palco ha poi visto protagoniste 112 famiglie premiate con un bonus del valore di 250 euro per la recente nascita del loro bebè un appuntamento questo a cui la banca tiene particolarmente dal 2010 ad oggi la BCC di Fano ha assegnato 691 bonus bebè abbiamo premiato tanti figli di nostri soci quindi è il futuro che insieme ai soci non mi piace chiamarli anziani ma sono soci con più esperienza questo connubio può portare sicuramente a uno sviluppo della banca anche per il futuro dopo la cena a base di specialità del territorio sono stati premiati i vincitori dell'undicesimo trofeo di bocce BCC Fano che ha visto la partecipazione di 128 coppie in una gara prevalentemente maschile si è giudicata la vittoria la sedicenne Flavia Morelli in coppia con Cristiano Lisotta campionessa italiana femminile allievi e grande successo lo scorso fine settimana per il festival internazionale del brodetto delle zuppe di pesce dopo 5 cooking show che hanno registrato il sold out una gara internazionale di altissimo livello che ha visto trionfare lo chef san marinese Luigi Sartini e 3 appuntamenti di alta scuola di cucina i quali hanno preso parte oltre 100 persone il pallabrodetto ha chiuso le sue porte in attesa però che si concretizzi il programma della tredicesima edizione per tutti coloro che volessero provare questo piatto della tradizione locale al prezzo convenzionato di 15 euro c'è il fuori brodetto fino al prossimo 11 ottobre infatti sarà possibile mangiare il brodetto nei ristoranti che aderiscono all'iniziativa l'elenco lo troverete anche nel nostro sito occhioallanotizia.it e questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale fra poco trasmetteremo una nuova puntata di dopo cena con il coro cappella musicale del Duomo di Fano allora grazie per la vostra attenzione il telegiornale torna puntuale domani sera alle 20 e 30 arrivederci grazie a tutti Grazie.